Il Monte Irsi caratterizza fortemente la zona di questo centro, fino alla fine dell'Ottocento denominato Monte Peloso. Borgo dal valore storico e culturale, Irsina è uno dei centri lucani più antichi. Al suggestivo paesaggio limitrofo si unisce l'abitato, che sorge sulla cima di un colle roccioso. Da non perdere il pittoresco antico borgo, un intreccio di vicoli costellati di costruzioni civili e religiose. La scoperta di Irsina è continua, tra chiesette e palazzi storici costruiti tra il Cinquecento e il Settecento, da vedere alla cattedrale di Santa Maria Assunta, che conserva la cripta e il campanile dell'antica chiesa. La parte posteriore ha l'aspetto di una fortezza e forma un unico corpo con le mura di cinta.